Fervono i preparativi a Lanzada per accogliere i 300 migliori atleti Andri 18 provenienti da tutto il mondo. Sabato sarà battaglia sui sentieri del Comune Malenco dove scatterà il Mundialino, sfida alla conquista del titolo internazionale giovanile di corse in montagna. L'evento, che sarà seguito in diretta dalle telecamere di Telesondro in USA a partire dalle 9.45, vede in cabina di regia la sportiva Lanzada, fin da subito supportata dalla FIDAL. La Federazione Italiana di Atletica Leggera è dalla VMRA, la World Mountain Running Association. Entrambe non hanno avuto dubbi. Lanzada ha tutte le caratteristiche per un evento di caratura mondiale. Parola di Jonathan Wyatt, sette volte campione del mondo. Quest'anno abbiamo il mondiale di sotto 18 anni a Lanzada. In Italia, negli ottimi anni, l'Italia ha sempre dato una mano per noi per organizzare queste gare. Hanno fatto veramente bene fra FIDAL e la WMRA per organizzare queste gare. Quest'anno abbiamo ancora sfruttato l'aiuto di Lanzada. Domani in arrivo la prima delegazione è quella statunitense. Entro venerdì tutte le squadre raggiungeranno Lanzada per poi ispezionare e provare il campo gara. Nulla è stato lasciato al caso. Il percorso, curato nei minimi dettagli, è ormai lodato da tempo. Lo stesso tracciato è stato infatti già teatro dei campionati italiani assoluti nel 2016 e giovanili nel 2017. È un regalo veramente tosto. Sono andato a vedere il percorso. È un gran percorso che dà una bella salita, una bella discesa. Sicuro troviamo i migliori giovani per il nostro futuro della corsa montagna.